In questo video completeremo la panoramica sui back reference e andremo avanti introducendo le alternative. Buona visione! Nel video precedente abbiamo visto come creare dei gruppi di cattura e come riutilizzarli all'interno di un'espressione regolare tramite l'utilizzo the back reference. Come abbiamo detto un back reference è composto da backslash più identificatore numerico del gruppo di cattura e sappiamo anche che l'identificatore numerico di un gruppo di cattura viene assegnato in ordine di creazione da sinistra verso destra rispetto alla stringa. Nell'esempio utilizziamo la forma di richiamo che abbiamo visto nel video precedente ovvero backslash più reference. In questo caso cosa facciamo? Andiamo a cercare corrispondenza con un qualsiasi carattere che si ripete due volte poiché abbiamo creato un gruppo di cattura che può contenere qualsiasi carattere ad eccezione del newline e richiamando successivamente il relativo back reference andiamo così a creare una sequenza casuale di due caratteri uguali. Quindi cosa succede una volta che si esegue lo script? La sequenza che abbiamo creato è lunga due caratteri quindi a colpi di due vengono esaminati da sinistra verso destra tutti i caratteri della stringa contenuta nella pearl favorite default. Al primo giro vengono quindi presi i caratteri sc. Il gruppo di cattura conterrà quindi s maiuscola e richiamando il suo back reference andremo a comporre la sequenza doppia s maiuscola. Doppia s maiuscola è diverso da sc quindi avanti di due posizioni. A questo giro proviamo invece doppia o. Il gruppo di cattura conterrà quindi o e richiamando il suo back reference si andrà a comporre la sequenza doppia o. Doppia o è uguale a doppia o quindi sequenza trovata. Dopo questo breve rinfresco di memoria andiamo a vedere la forma alternativa dei back reference. La forma di back reference che abbiamo utilizzato fino ad ora viene definita tecnicamente assoluta poiché andiamo a specificare come reference il numero assoluto del gruppo di cattura. Assoluto poiché il reference a cui facciamo riferimento corrisponde all'ordine di creazione del gruppo di cattura partendo da sinistra della stringa. Quando si utilizza un back reference relativo si indica il gruppo di cattura tramite numero negativo poiché si calcola l'id del gruppo basandosi sulla posizione del back reference. Quindi se come reference abbiamo meno uno richiameremo il primo gruppo di cattura a sinistra del back reference. Per aiutarvi immaginate la posizione del back reference come posizione zero e partendo da essa togliete meno uno ogni qual volta incontrate un gruppo di cattura. Utilizzando la forma back slash g andiamo ad indicare tra parentesi graffe il back reference meno uno. Quindi cosa dobbiamo fare per capire quale gruppo di cattura stiamo richiamando? Semplice si parte dal back reference e si trova il primo gruppo di cattura che troviamo verso sinistra poiché è indicato meno uno tra parentesi graffe. Il primo gruppo che incontriamo verso sinistra è il gruppo che contiene il wildcard punto. Quindi richiamandolo andiamo a formare anche qua una sequenza composta da un doppio carattere casuale. Eseguiamo lo script per conferma. Corrispondenza trovata poiché anche qua viene individuata la sequenza doppia O. Quindi come mai viene chiamato back reference relativo? Perché al posto di utilizzare la posizione assoluta in ordine di creazione per numerare il gruppo di cattura si utilizza invece la posizione relativa al back reference. Altro esempio. Cerchiamo di capire quale sequenza andiamo a comporre. Allora si creano due gruppi di cattura. Il primo contiene il carattere z e il secondo un qualsiasi carattere ad eccezione del newline. Dopo si richiama il gruppo di cattura meno due tramite back reference relativo. Quindi contando due posizioni verso sinistra partendo dal back reference troviamo alla posizione meno uno il gruppo di cattura che contiene il wildcard punto e in posizione meno due il gruppo di cattura che contiene il carattere z. Quindi quale sequenza andiamo a comporre? Z più qualsiasi carattere eccetto newline più z più due due. Eseguiamo lo script e corrispondenza trovata poiché viene trovato riscontro con la parte della stringa z x z due due. Ora immaginiamo di avere la necessità di trovare corrispondenza con diverse sequenze di caratteri. Come facciamo? Nell'esempio si crea semplicemente un ciclo while dove si effettua il match dell'input letto da tastiera attraverso dei controlli if else if ed else. Quindi se nella stringa letta da input verrà trovata la sequenza Gianni o la sequenza Mario o la sequenza Luca avremo in output corrispondenza trovata. In tutti gli altri casi stamperà invece nessuna corrispondenza trovata. Certo lo script funziona alla grande in questo caso però quando abbiamo questo genere di necessità la scelta migliore è quella di utilizzare le alternative. Guardate un po' come cambia la storia. Lo script è perfettamente equivalente al precedente. L'unica differenza è che al posto di utilizzare più controlli else if ho definito più sequenze di caratteri direttamente all'interno dell'unica espressione regolare contenuta nel blocco if risparmiandomi così di ripetere il controllo su più passaggi. Per definire un'alternativa si usa la barra verticale seguita da una sequenza di caratteri. Nell'esempio si va quindi a cercare corrispondenza con la sequenza Gianni o con la sequenza Mario o con la sequenza Luca. Proviamo lo script per conferma. Inseriamo ciao Luca corrispondenza trovata poiché trova Luca. Inseriamo adesso ciao Gianni corrispondenza trovata poiché trova la sequenza Gianni. Ciao Mario corrispondenza trovata perché trova anche la sequenza Mario. Ciao Gian Girolamo nessuna corrispondenza trovata. Come previsto funziona tutto a meraviglia. Ma attenzione le insidie sono dietro l'angolo. in questo esempio si vuole trovare corrispondenza con la sequenza Mario o Gianni Rossi. A logica dovremmo avere in output nessuna corrispondenza trovata poiché si trova Siri scontro con la sequenza Mario però abbiamo verdi anziché rossi. Guardiamo un po' cosa succede se si esegue lo script. corrispondenza trovata. Strano eh? Vediamo cosa è successo. Il fattaccio è che nell'espressione regolare abbiamo indicato come prima alternativa Mario e come seconda alternativa non Gianni come avevamo in mente bensì Gianni Rossi. Infatti se modifichiamo la stringa contenuta nella variabile nome da Mario Verdi a Gianni Verdi e si riesegue lo script nessuna corrispondenza trovata poiché nella variabile nome non viene trovata né la sequenza Mario né la sequenza Gianni Rossi. Per risolvere il problema basta racchiudere le alternative tra parentesi tonde. In questo modo andiamo a definire con precisione cosa deve essere considerata alternativa e cosa non. Infatti se si aggiungono le parentesi e si riesegue il tutto lo script rispecchia adesso le nostre reali intenzioni. Nessuna corrispondenza trovata poiché nella variabile nome non viene trovata corrispondenza né con la sequenza Mario né con la sequenza Gianni Rossi. Bene direi che anche per questa lezione è tutto. Per chi fosse interessato può trovare il link per il download degli esercizi in descrizione. Se avete dei dubbi o delle domande vi invito come al solito a lasciare un commento. A risentirci.